Carissimi fratelli e sorelle, buon ascolto del Vangelo di oggi secondo Giovanni 21-20-25 In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chiedendo sul petto e gli aveva domandato Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque come lo vide disse a Gesù Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose, se voglio che gli rimanga finché io venga a te, che importa? Tu seguimi Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma Se voglio che gli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere Parola del Signore Commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picocco È sempre molto interessante come Pietro abbia la capacità di vivere esperienze straordinarie con Gesù E poi rovinarle un attimo dopo con delle gaffe tipiche sue Era già successo quando dichiarò a Gesù Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente Con la risposta fu talmente tanto giusta che Gesù in quello stesso momento disse che su di lui avrebbe fondato la sua chiesa Ma dopo aver incassato un risultato così straordinario davanti alle parole aperte di Gesù che confidava la sua prossima morte a Gerusalemme Si era affrettato a rimproverare il maestro, dicendo di smetterla di fare discorsi così Ed ecco che la roccia su cui si fonda la chiesa Si sentì dire da Gesù Vada retro Satana perché tu mi sei di scandalo Perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini Nell'arco di pochi versetti Pietro passa dalle porte del paradiso Alla figuraccia di essere rimesso in fila come un demonio Nel Vangelo di oggi capita qualcosa di simile Pietro ha appena finito di parlare di amore e sequela con Gesù risorto Fino a sentirsi dire per tre volte Pasci le mie pecorelle Ed ecco che con la coda dell'occhio entrava il discepolo Giovanni che li segue e dice Signore, è lui Gesù gli spose Se voglio che egli rimanga Finché io venga, che importa a te, tu seguimi Anche Pietro è vittima di quello sport così diffuso tra tutti In cui ci sembra irrinunciabile Voler dettare le regole della vita e dell'esperienza degli altri Se voglio che egli rimanga, che importa a te, gli dice Gesù E subito dopo aggiunge, tu seguimi Cioè tu abbi come unica preoccupazione quella di seguirmi e non di pensare a Giovanni Ma in fondo la Bibbia si apre con l'invidia di Caino Che spia il fratello Abele E si convince che è prediletto da Dio rispetto a lui Sarà una ferita del peccato originale che tutti ci portiamo dentro Pietro compreso Una ferita di gelosia che si cura solo con una più radicale sequela di Gesù Solo quando ci concentriamo a farci santi Allora smettiamo anche di preoccuparci eccessivamente della vita degli altri